Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo allora! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Se vuoi scoprire tutti i segreti dei volantini e fare i tuoi acquisti in modo ancora più consapevole, visita anche il mio blog su trovavolantini. Siete in tantissimi a guardare i nostri video su trovavolantini, ma non tutti ci seguite. Ricordate, iscriversi è gratis, vi basta un click, ma per noi fa una grande differenza. Non riesco a crederci, siamo così vicini a un sogno che sembrava lontanissimo. Centomila iscritti su YouTube! Centomila iscritti su YouTube! Centomila iscritti su YouTube! Centomila iscritti su YouTube! Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tu, in quale negozio vai? Scrivilo nei commenti. Su TrovaVolantini.it le offerte della tua città a portata di un click. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che ne pensi di queste offerte? Scrivili nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.